Cari amici di Valdo TV, oggi mi trovo a Feltre di fronte all'ingresso dell'auditorium dell'Istituto Canossiano dove sa per andare in scena lo spettacolo delle bretelle lasche ai ferri corti nel parco. Spettacolo che è stato organizzato per aiutare e dare un contributo all'associazione Margherita Fenice di Belluno che si occupa di disturbi alimentari. Qui con me abbiamo la segretaria dell'associazione Rosa Vanz, il preside dell'Istituto Canossiano Stefano Serafin e un membro del direttivo della compagnia teatrale Andrea Carazzai. Andrea, inizierei da te che ci hai invitato qui oggi, puoi parlarci di come è nata questa collaborazione con l'associazione? Sì, in realtà il discorso è un po' più ampio nel senso che l'idea di proporre questo spettacolo alla nostra scuola e anche a scuole esterne, nello specifico all'Istituto Agrario, nasce dall'idea di promuovere la scuola stessa. Si è aggiunta l'opportunità, vista la conoscenza di questa associazione Margherita Fenice che è un'associazione che poi spiegherà la segretaria nel dettaglio, di collaborare in modo tale da veicolare attraverso lo spettacolo anche i temi che l'associazione stessa propone come tutela, diciamo come supporto alla popolazione per quanto riguarda i disturbi alimentari. Diciamo che l'idea che mi è venuta, che poi è stata condivisa col preside e con l'associazione stessa era quella di mettere insieme tre realtà che in forme diverse operano nel campo del volontariato. Adesso sembra un po' forzato dire che la scuola operi nel campo del volontariato però in realtà l'Istituto Canossiano con il ruolo delle madri sul territorio ha questa funzione. Le bretelle lasche di cui io faccio parte hanno la stessa vocazione naturalmente in ambito culturale e per concludere ovviamente l'associazione Margherita fa questo lavoro molto importante che anche questo è nel campo del volontariato sociale. Quindi questa è la razza di tutto. Grazie. Rosa, ti chiederai di spiegarci un po' meglio di cosa si occupa concretamente l'associazione e da quando è attiva. Allora, l'associazione è nata dieci anni fa, festeggiamo proprio quest'anno il decennale e per volontà di un gruppo di genitori che si sono trovati ad avere in famiglia un figlio o una figlia con un problema di questo tipo. Allora le strutture qua nel territorio erano scarsissime, si cominciava solo allora a conoscere e parlare di questo problema quindi l'associazione è nata inizialmente per aiutare i genitori a districarsi, a trovare la strada giusta per partire con la cura. Poi nel corso era anche io uno di questi genitori, mia figlia era poi guarita, è andata bene però ho deciso di rimanere dentro l'associazione e di collaborare. L'associazione è al di là dell'aiuto ai genitori con un gruppo di auto mutuo aiuto, fa lavoro di formazione per i medici di base che sono i primi a cui la famiglia si rivolge quando ha questo problema molto vicino. Tutto il discorso dell'ambiente sportivo dove nascono spesso disturbi alimentari e poi sono nati anche dei progetti di collaborazione anche con le ULS per potenziare i servizi all'interno degli ospedali. A Belluno c'è il pasto assistito, qui a Feltre l'associazione sovvenziona una psicologa che si aggiunge diciamo alle operatori dell'ULS per gli interventi terapeutici con le ragazze e ragazzi. E quanti volontari collaborano con voi? Ma esiste un gruppo ristretto diciamo che lavora, che opera, che si dà da fare e poi generalmente i soci sono i familiari, a volte rimangono, a volte una volta che il problema è risolto in famiglia si allontanano giustamente come è giusto che sia, quindi c'è abbastanza un ricambio non è che i soci siano stabili e duraturi nel tempo, c'è abbastanza un avvicendarsi dentro l'associazione. Bene, grazie. Preside, le chiederei una riflessione sull'importanza di trattare questi temi e di far conoscere questi problemi a ragazzi in un'età un po' complicata come l'adolescenza. Nel nostro caso abbiamo un duplice motivo per sentirci coinvolti nelle attività di associazioni come l'associazione Margherita. Noi abbiamo due indirizzi, il liceo delle scienze umane e il liceo delle scienze applicate biologico. Sono ragazzi che stanno crescendo con una formazione liceale che probabilmente opereranno in due settori importanti la formazione, l'educazione o anche l'assistenza all'ambito medico. Questi sono un pochino gli ambiti privilegiati. E allora incontrare queste associazioni ha appunto un duplice motivo. Aiutare i nostri ragazzi a crescere con un'attenzione alla realtà associativa che opera nel volontariato, come diceva giustamente il professor Carazzai, e quindi avvicinarli anche a un'attività che ha una funzione sociale. Nello stesso tempo il contatto con queste associazioni consente ai nostri ragazzi di acquisire conoscenze su ambiti nei quali probabilmente potranno anche operare in termini professionali. Grazie. Per concludere potresti dirci come contattare l'associazione? Abbiamo una pagina Facebook, c'è il sito, c'è un numero telefonico di riferimento a cui rispondiamo 24 ore su 24. Questi sono i canali. Poi ovviamente se le famiglie si ritrovano ad avere l'idea che ci possa essere un problema di questo tipo, rivolgersi direttamente ai due centri delle ULS, sia a Belluno, all'ospedale San Martino, che qui a Feltre, nell'ex casa di cura Bellati, dove si trova appunto quel nuovo centro di cura di disturbi e del comportamento alimentare di tipo multiprofessionale, preparato e quindi di non perdere tempo, ma di rivolgersi ai centri, oltre che a noi insomma. E se qualcuno volesse collaborare o contribuire ad aiutare l'associazione, come deve fare? Sì, durante questi incontri quindicinali che facciamo di gruppo di auto mutuo aiuto, è possibile partecipare e aiutare l'associazione tesserandosi diciamo. Bene, grazie a tutti e tre, io vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo nel prossimo servizio.